Ciao a tutti bestiacci, la notizia che volevo riportarvi oggi è che Daniel Radcliffe, famosissimo per aver interpretato Harry Potter nell'omonima saga cinematografica Fantasy sia stato preso in considerazione per interpretare Freddie Mercury in un tanto chiacchierato film sulla vita del cantante The Queen Inizialmente per questo role era stato scelto Sasha Boran Coyne, divenuto famoso in tutto il mondo per aver interpretato Borat però dopo alcuni dissidi tra lui e i due membri ancora coinvolti nel progetto Queen, ossia Brian May e Roger Taylor questi ultimi due hanno optato per Daniel Radcliffe e soprattutto per il fatto che lui sia già dotato di un buon talento canore e soprattutto per il fatto che sia più basso di Sasha Boran Coyne, quest'ultimo è alto più di un metro e novanta Daniel Radcliffe si avvicina più o meno all'altezza di Freddie Mercury che è intorno all'1.75-1.77 Sinceramente così a pelle non ce lo vedo benissimo nei panni di Freddie Mercury, soprattutto per i suoi lineamenti ancora adolescenziali e forse veramente troppo distanti da quelli del cantante The Queen sebbene lui abbia interpretato già ruoli maturi come quello di Allen Ginsberg nel film Kill the Derricks che uscirà in Italia il 17 di ottobre comunque sono ancora a voci, non è ancora niente di definitivo e qualora fosse scelto definitivamente per il ruolo di Freddie Mercury solamente alla prima del film potremo vedere se sarà trattata di una scelta azzeccata comunque il link per la notizia ve lo metto qui sotto voi ditemi che cosa ne pensate ditemi se ci vedete bene Daniel Radcliffe come Freddie Mercury in questo film sulla sua vita e noi ci vediamo con un prossimo video ciao a tutti